Allora, Triangle, come va la vita? E a te che te ne fredda. Ragazzi, ho trovato questo oggetto. Si dice che non si deve rompere. Che succede se lo rompi? Lo vedo, e poi si segnano che gli stessi occhi. No, grazie. Io volevo solo sapere... Fatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questi sono i miei amici di nome... Lo cazzo! Bene, io... Adesso mi hai rotto. Li scelgo io. Ehi tu, formaggio variato. Vieni nella nostra squadra. Fratello, così non ti cagherà nessuno. Partiamo a dare biscotti al team Bellox con le miei amici. Chi eliminare tra i seguenti personaggi? Esempio, se vuoi votare Gnomo, digita nei commenti... Lol, e me mo' e lo chiede! O answer!